Anche quest'anno tantissime le compagnie presenti alla selezione, quasi 100, che hanno coperto tutto lo stivale, quindi dall'estremo nord all'estremo sud, ancora una volta testimoniare che il Festival di Pesaro è veramente un festival di riferimento nel movimento ampissimo del teatro non professionistico. La selezione, grazie anche al contributo prezioso di Giuseppe Esposito che con me ha selezionato, un gruppo di 100 ottimi lavori all'interno del quale abbiamo scelto gli otto finalisti. Iniziamo con uno spettacolo, una compagnia che ritorna a Pesaro, un gruppo di Fasano, Brindisi, il gruppo attività teatrali Peppino Mancini che porta in scena un monologo molto intenso. Da qualche anno il Festival ha aperto anche ai generi diversi, quindi monologhi assieme a spettacoli collettivi. Il titolo è Stasera Ovulo per la regia di Mimmo Capozzi e l'autore è Carlotta Clerici. Proseguiamo con il teatro di Sabbia APS di Vicenza, con lo spettacolo Killer per la regia di Eros Emanuele Papadakis e il testo è di Aldo Nicolai. Proseguiamo con il gruppo Amici del teatro di Roncade Treviso con la commedia Se devi dire una bugia di La Grossa per la regia di Alberto Moscatelli e il testo è di Ray Cunei. Associazione Culturale Artemisia di Bari con un grande classico del teatro Riccardo Terzo, la regia di Ernesto Marletta e il testo ovviamente di William Shakespeare. Compagnia filodrammatica Orense di Vimercate, il testo è Duello, il gioco dell'assassino per la regia di Pietro Baio e l'autore Anthony Schaeffer. Proseguiamo con APS Tutti Insieme di Corridonia a Macerata, con lo spettacolo Pulcinella Sciamana, la regia di Francesco Facciolli che è anche autore del testo. Proseguiamo con La Graticcia di Verona con il testo Il teatro comico, la regia di Giovanni Witt e l'autore ovviamente Carlo Goldoni e concludiamo ultimo spettacolo in concorso Giardini dell'arte APS di Firenze con un altro classico Uomini e topi, la regia di Marco Lombardi, il testo di John Steinbeck. Quindi si trovano assieme commedie, testi classici, monologhi, testi anche in lingua dialettale per completare un cartellone che assieme ai numerosi spettacoli fuori concorso farà un festival degno dell'anno capitale, un festival molto intenso. Partiremo il 14 ottobre per concludere il 27 ottobre tutti i giorni spettacoli, qualche giorno anche due eventi per un festival molto intenso, molto faticoso ma che celebrerà al meglio l'anno di capitale della cultura.